1.400 richieste di rimborso sono state recapitate da altrettanti risparmiatori sul tavolo del Fondo Interbancario di tutela dei depositi. A darne notizia il Salvatore Maccarone, direttore del Fondo, che proprio in queste ore ha fatto il punto su di stare assegnati agli obbligazionisti azzerati delle vecchie Cari Ferrara, Carichieti, Banche Truri e Banca Marche. Per il momento, secondo quanto dichiarato dal direttore del Fondo, sono state recapitate soprattutto richieste individuali. Presumibilmente il grosso della documentazione arriverà attraverso le associazioni dei consumatori. Il Fondo verrà coinvolto anche nell'erogazione degli indennizi gestiti dall'autorità anticorruzione per i risparmiatori che scelgono di richiedere, tramite la procedura dell'arbitrato, il rimborso del 100% del proprio investimento, tentativo che resta alternativo rispetto a quello del rimborso automatico dell'80%. Ancora attesa invece per l'attivazione del procedimento di arbitrato, anche se proprio in queste ore sarebbe stato messo a punto lo schema del decreto attuativo. I procedimenti saranno seguiti dall'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione. Alla procedura potranno scegliere di fare ricorso di obbligazionisti subordinati che non hanno presentato, per mancanza di requisiti o per volontà, la documentazione per il rimborso automatico forfettario all'80%, adesso in fase di svolgimento presso il Fondo Interbancario. Grazie. Grazie.